buongiorno è un giorno importante questo è un giorno epocale no perché è perché c'è stata la pronuncia della corte giustizia europea che dice sì la uefa esercita un monopolio esercitava esercitava un monopolio ed è quindi necessario questo monopolio non ci sia più e che ci possano essere altre competizioni praticamente si è verificato l'imponderabile perché imponderabile perché tutti ci hanno fatto credere pensare in questi mesi in questi anni che non si arrivasse mai a questo tipo di conclusione tutti davano per scontato che la superlega non ci sarebbe mai stata tutti davano per scontato che i vari agnelli eccetera eccetera fossero dei visionari dei pazzi visionari e invece a volte ad essere pazzi visionari ci si azzecca in che senso nel senso che prima di parlare dovrebbe sempre aspettare le pronunce prima di cantare vittoria e di instillare nelle persone delle verità che ancora non si sono formate o delle credenze che ancora non si sono formate e che possono essere smentite bisogna aspettare dunque cosa succede adesso vediamo rai card ha già illustrato brevemente questo suo progetto 60 squadre tre leghe star league gold league blue league poi magari entreremo meglio nel del dettaglio di questa situazione di questa di questa possibile superlega perché adesso non è sicuro c'è la possibilità che la superlega possa prendere corpo e quindi vedremo come come si si svilupperà la cosa che già colpisce e che cattura in un certo senso l'attenzione è che la trasmissione delle partite sarebbe gratuita non ci sarebbero televisioni a pagamento quindi l'evento superlega è fruibile in chiaro gratuito o comunque in chiaro o comunque su piattaforme ma gratuitamente anche queste sono situazioni e tematiche da approfondire e questo sicuramente può può far bene all'utente no questo perché perché la superlega o questa lega nuova sarebbe in grado di autofinanziarsi in maniera così importante non aver bisogno dei contratti con le con i broadcaster cioè praticamente con le televisioni con coloro che fino adesso trasmettono la UEFA Champions League la Conference League l'Europa League attraverso abbonamenti ok quindi sarebbe un altro passo importante è chiaro che in questo momento cosa c'è c'è tutto sto casino sto bailame c'è il delirio di felicità da una parte il delirio di rabbia dall'altra ci sono già stati dei comunicati ufficiali la Liga e il governo inglese si sono schierati contro addirittura il governo inglese ha detto che praticamente arriverà attraverso dei progetti provvedimenti legislativi a vietare la partecipazione ad un eventuale superlega alle proprie società alle società della propria federazione non si è espressa alla federazione di calcio inglese perché dice perché il governo inglese condanna ogni forma di separatismo mi sembra un autogol clamoroso dopo la brexit anche perché ufficialmente quindi l'Inghilterra la Gran Bretagna non fa parte dell'unione europea no si è separata dall'unione europea e condanna ogni forma di separatismo vabbè insomma a volte ci sono degli aspetti un po chiamiamoli pittoreschi no poi bisognerà capire quanto eventualmente sarebbero contenti i presidenti i proprietari o presidenti di Manchester United Chelsea Manchester City eccetera di dover rinunciare a determinati introiti qualora appunto la superlega li dovesse garantire e quanto i tifosi possano essere appunto contenti magari di dover partecipare ad una ad un'altra manifestazione parlo in questo caso magari della della Champions League che potrebbe rimanere per carità senza tante senza tante squadre che le società inglesi avrebbero potuto fronteggiare partecipando alla superlega insomma è chiaro che adesso è tutta una una situazione in divenire è tutta una situazione in divenire è importante per quale motivo ragazzi perché sostanzialmente viene a cadere una sorta di monopolio di chiamiamola di dittatura sportiva da parte della UEFA e quindi ci sarà la possibilità di organizzare competizioni parallele senza per questo inficiare la partecipazione dei propri campionati perché già c'è chi dice che sì sì meno male è è bello che sia successo questo qualcuno ha scritto perché così almeno ci si libererà di una società ovviamente riferimento alla Juventus indovinate quale sarà la prima a lasciare finalmente il cambiato italiano la domanda corretta è chiediamoci chi sarà la prima chi sarà la seconda chi sarà la terza chi sarà la quarta perché credo non credo insomma che le altre società possano rimanere ancorate ai propri principi vedendo quello che può offrire anche alla Superlega poi magari decidono di far così eh non lo so adesso qui si tratta di capire poi bene come viene armonizzata la Superlega con i calendari nazionali tanto più che nella Blue League si accederebbe credo attraverso la partecipazione dei propri campionati insomma è ancora tutto da comprendere è tutto da capire il vero significato è che è crollato un muro era come un po' il muro di Berlino questo qua sportivamente parlando con tutto rispetto per carità di Dio ma è crollato è crollato e questo è molto importante vuol dire che si vuole andare avanti vuol dire che si vogliono sperimentare vie nuove vuol dire che c'è del dinamismo laddove c'era del conservatorismo che poi necessariamente che il dinamismo sia bello il conservatorismo sia brutto però diciamo così che quantomeno provare vie nuove offre eh determinati stipoli la Juventus com'è in questa situazione si tratta di capire a che punto era il suo processo di uscita dalla Superlega perché aveva avviato le procedure non so se fossero terminate non credo non credo e comunque la posizione da Juventus insomma è sempre stata quella di eventualmente credo rientrare qualora il progetto fosse fattibile era stata costretta 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 ad uscire dalla Superlega altrimenti la Juventus si beccava tre anni di sanzioni o meglio tre anni di squalifica dalle competizioni europee e data la tempistica siccome allora ovviamente non si era ancora pronunciata la competizione europea la Juve era stata costretta ad uscire per evitare di stare senza competizioni europee per tre anni ma questa è dittatura prima c'era prima c'era la libertà capite? eh sì questa è l'Italia è una situazione l'Italia mentre prima c'era la libertà eh sì va bene iscrivetevi al canale ci vediamo questa sera ciao ragazzi ciao 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 ciao